Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina, anche oggi momento salotto in cui vi faccio una recensione, come avrete visto dal titolo, dello Ioro, ovvero questo yogurt leggero, naturale, sempre bionova, quindi fa sempre parte della collaborazione con l'azienda di Piacenza, di cui vi ho già parlato, nelle acque detox, ormai l'avete visto praticamente per tutta l'estate, quindi avete visto quasi l'intera gamma dei prodotti, se non praticamente tutta. Questo è uno dei prodotti, non dico di punta, però uno tra i più golosi sicuramente dell'azienda, infatti è uno yogurt dorato, dalle mille proprietà, fondamentalmente contiene soltanto latte e fermenti, quindi non contiene zuccheri, non contiene coloranti, quindi tutto ciò che si vede e si assapora, diciamo, è naturale completamente. Quindi diciamo che la particolarità di questo Ioro è che in pochissime calorie, meno di 60 calorie, fondamentalmente dà quella sensazione di dolcezza e di buon saporino, che solitamente manca un po' in quelli yogurt a poche calorie magri, che insomma hanno quel gusto, che si sente che ho magari dolcificato con dolcificanti naturali o non naturali, che a me personalmente non piacciono. Devo dire, non ne conosco molti, però tipo la stevia come gusto non mi piace particolarmente, e anche dolcificanti tipo quelli classici, che insomma si usano solitamente, non mi piacciono nei dolci. Quindi, adesso lo assaggiamo insieme, vi dico subito che il prezzo è di circa 1,30€, euro più euro meno, cioè centesimo in più, centesimo in meno ovviamente. Si può trovare tranquillamente da esse lunga, ovviamente bisogna vedere se l'esse lunga della vostra zona rifornisce, però qui si trova, e probabilmente, sicuramente si trova online nel sito, questo ovviamente è classico. Cosa c'è scritto sulla confezione? La riscoperta di una ricetta antica per preparare uno yogurt naturale leggero, più dolce di ogni altro naturale. Ok, quindi naturale leggero, la confezione è proprio basic, quindi qui c'è scritto che contiene soltanto latte e fermenti, il colore è davvero un po' color nocciolina, marroncino chiaro, e la confezione si presta benissimo, secondo me, perché richiama proprio l'aspetto naturale del prodotto. All'interno, ce la posso fare, giuro, volevo cercare di non romperla, perfetto. All'interno la confezione è così, quindi classica, classica, classico vasetto senza niente di troppo particolare, e sopra c'è scritto Bionova, che appunto è il nome dell'azienda. Io gli do una piccola shakerata, è abbastanza liquido come yogurt, non ha la classica consistenza troppo cremosa, però vi assicuro che è qualcosa di eccezionale. Io l'ho già potuto provare al Cibus, però di sfuggita, diciamo, ne ho assaggiato un pochino senza troppo soffermarmi. Adesso ve la faccio vedere, la consistenza, vedete? Non ha la classica consistenza cremosa, però assolutamente, secondo me, a colazione ci sta. Adesso sentiamo il gusto. Allora, sa di yogurt canamellato, fondamentalmente credo che lo sia. Il gusto è molto naturale, effettivamente è dolce, a me ricorda moltissimo uno yogurt tipo al caffè, ha un gusto particolarmente cappuccinoso, ecco. È molto gradevole, non è assolutamente acido, quindi non ha nessun retrogusto sgradevole. Sì, non è dolcissimo, ecco, non aspettatevi che sia dolce in maniera esagerata, però assolutamente è vero che è più dolce dei soliti. Cioè, io, ad esempio, gli yogurt magri, quelli lì, non riesco proprio a mangiarli, sono davvero acidi per me e non ce la faccio. Questo è molto molto veradevole. Inoltre, tra le sue proprietà, ne ha alcune che fanno davvero bene al nostro organismo. Ad esempio, viene consigliato di assumerlo o la mattina, o anche come spuntino a merenda, perché, appunto, aiuta sia l'intestino, quindi la microflora intestinale, tutto solito, quelle cose prebiotiche, probiotiche, e soprattutto aiuta anche il metabolismo. Quindi, oltre ad essere un antiossidante, insomma, ha davvero un concentrato di proprietà che mi fanno dire che forse vale la pena di provarlo. Io, personalmente, l'ho già visto da esse lunga, quindi qui a Parma sono quasi sicura che ci sia. Ovviamente, considerate che spesso i supermercati riforniscono in maniera ciclica, quindi a volte magari non hanno richiesta, quindi non sempre lo potreste trovare. Comunque, vi lascio qui sotto i link al sito dove si può ordinare online, assolutamente. Quindi io vado a finirmela. Spero che la recensione vi sia stata utile. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se l'avete già provato, se avete avuto modo di gustarvelo. e nel caso, come l'avete mangiato, se magari l'avete usato in qualche ricettina, insomma, lasciatemi qui sotto commenti e pareri, che io sono sempre felicissima di leggerli. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo con la prossima recensione, o la prossima videoricetta a questo punto, e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!